Il bacino di Central Park. L'impianto idrico. Che pompa melma ovunque. E dà altrimenti alla coscienza collettiva. Se tutti quei simbionti escono da Manhattan... Addio Terra. Benvenuto pianeta melma. Il meteorito è la fonte del potere, no? Crea la melma e crea i simbionti. Ma era inutile prima che Harry lo riparasse. E? E è stato l'acceleratore di particelle a danneggiarlo. L'ha rotto a bassa potenza. E se noi aumentassimo quella potenza? Che ne so, tipo a mille? Lo distruggeremmo. Liberando tutti quanti dai simbionti. In teoria. Ma quel bacino sarà pieno zeppo di simbionti. E di certo Harry non staccherà gli occhi dal suo sasso. A meno che qualcuno non lo distragga. Io. È solo a scopo illustrativo. Harry non è cambiato. Vuole ancora curare il mondo. Un sogno incompleto senza... Il suo migliore amico. Io posso allontanare Harry dal meteorite. Io posso occuparmi dei simbionti. Mentre io... Prendo il nostro sasso. Solo a scopo illustrativo. Bene. Accendiamo l'acceleratore. Via i simbionti. Mondo salvo. Poi i churros per tutti? In teoria. Pete... Connors ha detto che Harry ha perso il controllo. Se non potrei salvarlo dovrei... Non succederà. Voi distruggerete il meteorite in tempo. Curiamo il mondo. Facciamolo. Quindi il meteorite è dentro quella cosa? Insieme a Harry e i suoi amichetti. Tieni. Un aiutino sonico potrebbe servirti. Stanno tutti lì fermi. Cosa stanno aspettando? Sentite. Non vi ringrazierò mai abbastanza. Per tutto. Dai, bro. Siamo lo Spider Team. L'unico è inimitabile. Ehi, amico! Starai seduto lì tutta la notte a giocare col tuo sasso? Siamo solo tu e io. Proprio come volevi. Il nostro dono sarà finalmente tuo. C'è solo un dettaglio. Prima devi uscire a prendermi. M.J. e Yorah! Volevi una storia, Watson. Cosa diavoli vuole? Un vicolo genio? No. Deve esserci uno d'altro. Chiunque ha lasciato ben grado, spero stia bene. Che accidenti. Aiuto! Arrivo! Resistete! L'Oscop. L'Ormine li ha mandati a cercare Harry. Non avranno lasciato solo dei bengala in giro. Qui sembra un'esposiva. Oh, non ci voleva! Non me ne vado senza quel sasso. Il meteorite. Devo scendere. No, passi mai dai! Il meteorito è collegato alla coscienza collettiva. È solo un sasso e può distruggere il mondo. Ora verranno a prendermi. Devo andarmene. Il meteorito sembra vivo. Devo andarmene. Se si riprendono il sasso, è Game Mover. Fa che sia la strada giusta. Il cielo. Sono quasi fuori da questo buco. La via d'uscita è oltre l'elicottero. Su per quella scala e ci sono. Non ci posso credere. Ehi, l'ho ferito. È bello grosso, ma io sono veloce. Ora diamocela a gambe. Forza, Miles! Forza, Miles! Sei pronta? Mi sa che il tuo più uno non è invitato alla nostra rimpatriata, Harry! Harry! Qui è dove siamo diventati amici. Sì. È vero. Ed è qui che diventeremo fratelli. Vieni con noi. Ricorda, quante ne abbiamo passate assieme! Flash ci ha preso a schiaffi per quattro anni. L'hai scordato? Eravamo deboli. Ma eravamo uniti! Che sta facendo? Non devo restare a terra! Ma eravamo uniti! Venivi a casa mia ogni giorno dopo la scuola! A dormirci quando tua madre si è ammalata! Non potevamo vederla così. Non potevamo vederla così. Quando l'hai persa? Quel giorno sul campo da football! Io c'ero! Ci sono sempre stato! Poi la malattia di nuovo! Ci hai abbandonati mentre lottavamo contro la morte! Stavo provando a salvarti! A noi no! Tu vuoi unirti a noi? Lo sappiamo! E che continui a ostacolarci! Non mi hai dato altra scelta! Sibionti in arrivo! Posso liberarlo con l'antivenom! Guarda la vita! Grazie a tutti. Non so mai più. Sappiamo cosa è meglio per te. Per tutti. Ti abbiamo dato tutto ciò che volevi. E tu l'hai gettato via. Ho sbagliato tutto. Perdonami. Poi ci hai sostituiti con Miles. E lui ti ha estigato contro di noi. No! Mi ha salvato! E io salverò te! Non siamo mai stati abbastanza per te o per papà. Vuole solo confonderti, Harry! Sei il mio migliore amico! E perché non ti fidi di noi? Eccone altri! Mi fido di te, Harry! Non di quella cosa che hai addosso! Noi non siamo una cosa. Non funziona! L'antica e non brucerà un po', Harry! E atterra! E' altruzzata! E' altruzzata! E' al che ci sia? E' altruzzata. Non ci vorrà molto. Non importa ciò che vuoi farmi. Non cullerò mai il mondo insieme a te. Non così. Il meteorite... ce l'avete tolto? No. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti